buongiorno amici oggi fine agosto e vado nel bosco di faggio a farmi un giretto se trovo qualche porcinello a farvi vedere chissà mai sono i primi ma qualcuno li ha già presi mio amico adriano 1 2 li ha già beccati speriamo di trovare qualcosa perché poi devo portare pedro e pedro devo portare nei boschi a documentare per forza va bene faccio gli auguri a mio amico luca che è a buonianco di prendere tanti bei porcini ciao ciao guarda qua guarda qua che spettacolo questo guarda nelle frasche guarda che bello che è ciao cicciolino ma ti ho visto io qua eri ben nascosto eh guarda che bello mi zica oh beh non è un fungo che prende però questo è già bello eh amico cicciolino guarda che bello che è ma io c'ho un occhio è vero o no ma che bello questo qui bravo eccolo lì un altro porcinello vediamo un po spostiamo il legno vediamo ehi amico amico mio come sei messo qua ma mi piace dai bello macone sotto ehi ehi è bello eh guarda è bravo il nonno franco eccolo lì guardalo lì guardalo lì un porcinello guarda che bello sono fortunato stamattina nonno franco guarda che bello che è guarda adesso andiamo lì eh guarda che bello che è guardalo lì che bello mi zica questo è bello davvero ui 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 mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia andiamo a vedere il testino è spettacolo è un po mangiato lo sento io aiaiaiaiai è un po mangiatino però è bello questo qui guarda che testino guarda guarda sotto guarda che bello guarda eh è bello questo dai oh cicciolino ti sei messo qua per me eh oh che boia che bello che sei che bel gambotto bravo bravo il nonno franco l'ha accontentato eh bello bravo adesso andiamo a fare un altro giretto a vedere eh grazie a tutti grazie a tutti